Rialzi contenuti in chiusura per Piazza Affari e le principali borse europee che dopo una seduta sotto tono hanno accelerato il passo in scia dell'andamento positivo nel pomeriggio di Wall Street. Milano termina la settimana con gli indici in rialzo dello 0,61%. Sul paniere principale le migliori performance le hanno realizzate Medio Banca che ha incassato oltre 3 punti percentuali, FCA che ha guadagnato oltre 2 punti percentuali e Lusso con Moncler, Salvatore e Ferragamo, ben oltre 2 punti di guadagno. A perdere maggiormente invece è Tenaris che ha lasciato sul terreno quasi 3 punti percentuali e Autogrill che ha perso oltre 2 punti. Nel resto d'Europa Parigi ha chiuso gli scambi rialzo dello 0,72%, Francoforte dello 0,46%, Londra dello 0,41%. Unica piazza negativa è Lisbona che ha terminato le contrattazioni cedendo lo 0,42%.